Molte persone sono convinte che le operazioni di aerosol su gran parte dell'Italia sono state interrotte. Non è assolutamente vero. Le spesso artificiali condizioni meteo di alta pressione, ottenute per mezzo di armi scalari, sono il risultato di un affinamento delle tecniche di geoingegneria. Infatti è durante la notte che si concentrano i sorvoli a basso quota di velivoli non convenzionali. Questi aerei rilasciano quantitativi enormi di metalli pesanti, polimeri e biossido di zolfo con il favore delle tenebre. L'SO2 o biossido di zolfo, ricordiamo, è la prima conseguenza dei processi di combustione degli aerei. Questo modus operandi permette poi di intervenire con sorvoli diurni, definibili di mantenimento, ricorrendo ad elementi chimici evanescenti o semi persistenti, tanto che molti velivoli verranno dai più ingenui scambiati per voli di linea. Impossibile, giacché i velivoli per il trasporto di merci e passeggeri volano dagli 8.000 ai 14.000 metri di quota, per cui non sono visibili in alcun modo e tantomeno in questo periodo di caldo eccezionale, poiché in nessun caso possono generare scie di condensazione. D'altro canto non è giustificabile il sorvolo sui centri abitati, salvo che per decollo e atterraggio, ad altitudini anche inferiori ai 1.700 metri, in quanto le normative lo vietano. Inoltre i consumi sarebbero elevatissimi per via della superiore densità dell'aria a bassa quota e ciò non sarebbe conveniente per le compagnie. Le nebbie elettroconduttive di ricaduta, con insistenza spacciate dai servizi meteo militarizzati per sabbia del deserto, sono funzionali all'impiego di radar e satelliti ad alta risoluzione e soprattutto permettono la gestione a grandissime distanze dei droni. 27 velivoli senza pilota operanti nell'ambito del programma di controllo e sorveglianza denominato Alliance Ground Server Lines, distanza a Sigonella e nel quale si inserisce la realizzazione del sistema radar satellitare MUOS. La completa assenza di nubi al mattino e l'onnipresente nebbia chimica di ricaduta, riscontrabile anche sulle mappe satellitari, dimostra che i sorvoli proseguono notte e giorno. Da trondeli si distingue anche di notte e si ode perfettamente il rombo dei motori. La frequenza dei sorvoli aumenta dalle 18 in poi, con un sorvolo ogni due minuti ed anche meno. Si tratta per lo più di velivoli molto piccoli e che viaggiano lentissimi, così da non essere notati. Siamo di fronte perciò ad una pericolosa evoluzione delle modalità di modifica climatica, per cui è ormai da considerarsi obsoleta e anacronistica la distinzione tra scie di condensazione e scie chimiche, giacché, nella stragrande maggioranza dei casi, gli aeromobili impiegati nella guerra ambientale non emettono alcun tipo di scia visibile. D'altronde, anche l'esperienza diretta ci dimostra che più è microscopico l'aerosol, più esso appare invisibile.